ciao a tutti bentornati sul mio canale oggi volevo registrare un video tra make up veloce e mi preparo con voi lo chiamo e penso di chiamarlo make up veloce allora prima però vi voglio mostrare i prodotti che vado a utilizzare allora vado a utilizzare questo ombretto di ofidra questo qui questo è quello doppio c'è la matita sotto e quello che ero sopra questo qui e poi subito dopo senza mascara perché ragazzi ragazzi prima me la sono dimenticata secondo sto incominciando a rivalutare un po il mascara della smashbox perché prima mi piaceva adesso non mi piace più mi fa tutti i grumi quindi non lo vado a utilizzare oggi poi subito passo alle labbra con questa matita di debbie che nel progetto smaltimento prodotti e questo rossetto di pupa così riuscite a vedere di questo colore questo allora vado a iniziare subito perché oggi non voglio perdere tempo devo fare un po di video quindi io vado a iniziare subito voglio ricordare che questo ombretto non ha bisogno di primer perché è già un ombretto che ha il primer dentro allora vado a mettermelo sugli occhi intanto vi racconto un po di cose allora lasciatemi di vi voglio dire innanzitutto com'è andata il progetto che ho fatto con il comune che ve l'ho già spiegato e c'erano ve l'ho già raccontato forse non mi ricordo cosa è successo non lo so un rumore strano però fa niente ve l'ho già raccontato come funzionava comunque ve lo spiego brevemente c'erano praticamente 20 progetti 20 e proposte di progetto che partecipavano a questo grosso progetto e ne venivano scelte soltanto due o tre in base al prezzo che avevano intanto è sempre vado a mettere infatti cosa qua il l'ombretto come sempre cioè prima mi veniva bene adesso non so com'è che viene poi lo vado a sfumare dicevo c'erano questi 20 progetti di cui c'è stata poi la votazione popolare che ne hanno scelti tre allora praticamente il mio ha preso pochissimi voti e quindi non è passato però sono contenta lo stesso di aver partecipato lo stesso di aver partecipato allora e quindi appunto non ho vinto quindi volevo rendermi partecipi di questa cosa va bene così questo poi poi un'altra cosa che volevo dire che praticamente ieri o comunque domenica scorsa c'è il 21 ottobre mi dico la data così anche se non dovessi caricare un altro giorno differito da oggi differente da oggi almeno sapete di che domenica parlavo è stato il mio compleanno e quindi è stato molto divertente molto bello mi sono divertita qua la vado a sfumare con il dito vengono sempre occhi diversi perché questo è venuto più scuro mentre sto più chiaro adesso mi tocca di farlo dall'altra parte cioè non è che è venuto più scuro a sinistra è venuto bene a destra è venuto male però ormai visto che secondo me lo ho fatto già vado a modificare quello destro vedete che aveva sinistra che è venuto bene è venuto bene quindi devo modificarlo perché quello destro mi è venuto un po' male però adesso cerco di più o meno perché di qua mi è salito più e lo scuro mentre... e qua e salito tutto questo comunque comunque... più o meno... più o meno di entro... ok aspettate faccio così e non prenderemo direttamente col dito prendo il tupo ecco così non è uguale non so che è uguale comunque dicevo è stato il mio compleanno domenica 21 e quindi ho 27 anni adesso piano scusate eccomi scusate allora stavo dicendo è stato il mio compleanno mi sono divertita molto intanto mi metto la matita e poi sono divertita molto perché c'è la mia famiglia e quindi mi diverso sempre quando c'è la mia famiglia tutta insieme quindi molto bello ricevuto dei regali molto belli che poi vi farò vedere in un video in tutto questo sto preparando anche un video mega haul e quindi poi farò col video dei regali e il video mega haul quindi e poi vedrò di fare anche il video della prestazione e adesso andrò a mettere appunto il rossetto e quindi vado a mettere come il rossetto e quindi e poi ho finito il trucco che e quindi adesso metto il rossetto Così Così Allora 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 Il trucco si è finito qua, il trucco si è finito qua, il trucco è stato un po' veloce, scusate che ho dovuto stoppare ma comunque questo era quello che io volevo dire anche truccandomi. Ah, vi volevo dire anche che ho fatto un trucco per Halloween però non so se girare il video o no perché è abbastanza lungo da rifare e quindi non so, fatemelo sapere se volete vederlo o se no vi metto soltanto la foto sulla mia pagina Facebook e su Instagram poi quando sarà Halloween. E quindi fatemi sapere un po' queste cose. Ecco, io vi saluto, ci vediamo un prossimo video, ciao ciao. Ah no, prima di salutarvi vi volevo ricordare di mettere mi piace, se vi è piaciuto questo video di mettere mi piace e se non siete ancora iscritti e volete comunque vedere altri miei video, questa è la prima volta che vedete un mio video, volete vedere negli altri iscrivetevi al mio canale. Ok, così mi ha aiutato, così mi ha aiutato a crescere un po'. Questo, poi se volete condividere questo video potete condividerlo con amici, parenti, conoscenti e con chi volete insomma. Se volete commentare potete commentare, io sono sempre felice di ricevere i vostri commenti, io rispondo sempre, sempre, mi piace avere dei riscontri da parte vostra e quindi sono felice se commentate. Questo è veramente tutto, stavolta vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ciao ciao.